Dal 2019 patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, la transumanza è stata anche protagonista della Fiera Internazionale dell'Agricoltura che si chiude oggi a Parigi. E proprio all'ombra della Torre Eiffel, migliaia di pecore hanno riportato l'attenzione sull'importanza di quel turismo lento che due anni di pandemia hanno fatto riscoprire alle persone attraverso il contatto diretto con la natura, lontano dai baccanali consumistici delle grandi città. Componente del club per l'UNESCO di Chieti e consulente per la regione Abruzzo del turismo lento e dei tratturi, Antonio Corrado è stato l'osservatore speciale degli eventi connessi all'iniziativa della Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Parigi. A Parigi perché c'è questa contestualizzazione importante. Lo scorso anno praticamente è partita questa iniziativa di Parcovie 2030 che ha come obiettivo quello di censire e valorizzare tutta una serie di... una rete che è già esistente di cammini che sono testimonianze del turismo lento, di cammini e tratturi affinché possa diventare una grandissima rete. Questa iniziativa è partita dalla regione Abruzzo che è capofila di un partenariato ed è stato sottoscritto lo scorso agosto. La cosa importante è che oltre al fatto che noi già sappiamo che la transumanza è un bene culturale immateriale ma in questo grande progetto di Parcovie è insito anche l'istruzione di questa partita per la candidatura dei tratturi a beni culturali e materiali. In questo momento in cui la pandemia ci ha dato comunque sostanzialmente un indirizzo il turismo lento, distanziato, a contatto con la natura, all'aria aperta comunque è virtuoso. Noi tra l'altro non è che possiamo dire di poter essere una destinazione turistica per un turismo di massa, non ci potremo mai inventare di essere competitivi nei confronti di Roma, Venezia, Napoli, Torino, Firenze. Quindi quello che possiamo vendere è la nostra unicità e la nostra unicità è insita nei parchi. Abbiamo il Geoparco della Maiella che è Geoparco Unesco e noi possiamo vendere la nostra diversità che consiste anche in una grandissima biodiversità. L'Abruzzo ha la più alta biodiversità naturale d'Europa. Tornando alla transumanza, nel XV secolo dovete considerare che partivano dall'Abruzzo e arrivavano a Foggia da 5 a 7 milioni di capi ovini ed era la prima fonte delle entrate del re delle due Sicilie. Quindi se questa era un'economia che andava bene allora, allora noi possiamo prendere una nuova declinazione, perché tutte queste pecore non ci stanno, che comunque salti anche i valori della filiera della pecora, perché noi abbiamo una grande tradizione di caseificazione, i nostri formaggi sono i migliori d'Europa, sono pazzeschi e sono diversi, perché il formaggio di Scano è diverso da quello di Anverso e diverso da quello di Manoppello, è qualcosa di incredibile. Se poi ci mettiamo che nella filiera ci sta il famoso arrosticino, che è uno strumento di comunicazione mondiale, quando si parla di Abruzzo e si associa l'Abruzzo all'arrosticino, sono succhi gastrici che vanno in movimento. Questo possiamo vendere e lo dobbiamo vendere, tra virgolette. Grazie.